buongiorno e buonasera e buon ascolto benvenuti ad allora di amadeus questo è un podcast scaricato ascoltatelo anche quando andate per strada e riempite la vita buonasera buongiorno dipende dal fuso orario in cui vi trovate e dipende quanto dista da voi la prossima stazione radio vero egno cari amici vicini e lontani di radio come diceva ovunque voi siate diceva un altro in radio days assolutamente si buongiorno a tutte e tutti boongiorno a tutti senti ti faccio una domanda generica come prima domanda e altrettanto difficile ce la fai in due minuti a spiegare cos'è una radio trasmissione ah beh partiamo col countdown una radio trasmissione è tutto ciò che viene mandato via etere attraverso l'uso di attraverso la modulazione delle frequenze insomma quindi adesso non uso termini tecnici ma insomma è tutto ciò che viene mandato via etere utilizzando appunto le frequenze radio e questa molto banalmente sono stato anche in 30 secondi come si suddividono le onde le famose onde che noi conosciamo innanzitutto prima una piccola premessa è un mondo che oggi ci appare un po vintage un po lontano e forse il fascino che esso prego prego è proprio per questo che lo facciamo eh lo so infatti proprio questo senso di straniamento a me prende in realtà un senso di doppio straniamento perché per me è un mondo quotidiano ma mi rendo conto che dalmeno una decina d'anni esso diventato una sorta di vintage anche se in realtà come vedremo non è così e quindi mi fa strano dover dire come si dividono le onde come se una persona chiedessero quali sono i canali della televisione italiana già questo non ti saprei rispondere per esempio ma sulle onde radio qualcosa ti so dire le onde sono divise in base appunto a quella che un tempo era chiamata la lunghezza d'onda abbiamo le onde lunghe le onde medie le onde corte e poi abbiamo le vhf cioè le very high frequency le uhf le ultra high frequency poi si va ancora più su sui gigahertz insomma che sono le frequenze usate dai cellulari dai satelliti eccetera eccetera e le varie lunghezze d'onda hanno un sistema di propagazione delle onde radio che varia e quindi si sceglie di utilizzare una o l'altra a seconda del tipo di trasmissione che si vuole fare naturalmente dicevo non è solo vintage perché in realtà naturalmente persino le radio dabb ovviamente utilizzano le frequenze radio sebbene non siano le medesime delle radio analogiche ma per quindi in realtà siamo vintage ma fino a un certo punto forse vintage un po in realtà il punto di vista di chi pensa che il presente non sia mai la sommatoria delle azioni del passato voilà bene bene senti quelle più quelle le onde le onde che ho frequentato di più una questione di generazione io 55 anni sono le fm ma le onde medie io avevo una radio una radio a pile che aveva solo le onde medie ecco innanzitutto parto da una questione tecnica per in realtà si dice fm ma fm non è una lunghezza d'onda è un modo di modulare le onde radio le onde radio si possono modulare in diversi modi cioè si può trasformare la voce umana in impulso elettrico in diversi modi l'fm è la modulazione di frequenza che di fatto modula i picchi della frequenza mentre la modulazione di ampiezza trasforma diciamo in voce semplifico esattamente lo spazio tra un picco dell'onda e l'altra quindi in realtà quelle non sono le lunghezze d'onda ma sono i modi di trasmissione sono due cose diverse anche se spesso si tendono a confondere per una ragione in realtà che mi hai parzialmente citato perché eravamo abituati sulla radio a leggere am fm modulazione di ampiezza e modulazione di frequenza in realtà evidentemente sono due modi di modulazione diversa che utilizzano due lunghezze d'onda diverse per delle ragioni pratiche e anche di spazio delle frequenze stesse però in realtà uno può andare in onde medie e trasmettere in fm oppure andare in in vhf e trasmettere in modulazione di ampiezza voglio dire sono due cose separate diciamo che uno è il modo del è il modo del verbo e l'altro come dire è il tempo del verbo è un po' la classica errore tu che sei un docente lo sai spesso la scuola si tende a confondere il modo e il tempo no a volte anche la diatesi che è peggio eh beh sì 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 poi col latino c'è pure il deponente figurati peggio e quindi che le caratteristiche hanno non tanto le onde medie in sé perché sono onde ma le stazioni che gravitavano e gravitano in orbita onde medie sì le onde medie in realtà in questi anni eh si stanno vivendo un periodo un po' contraddittorio perché tre quarti delle emittenti dell'Europa occidentale di fatto hanno chiuso le onde medie tranne il caso eh eh anticiclico della Spagna in Spagna le onde medie sono non solo usatissime dalla radio statale ma sono usate anche dalla radio locali un po' come qua le radio locali trasmettono invece in hf sulle fm lì hanno onde medie in modulazione di ampiezza si hanno un sacco di radio locali in Italia di trasmissioni in onde medie ne restano pochissime in Italia in italiano anzi abbiamo Radio 1 che è l'ultima eh mi tenterai ad avere ancora dei trasmettitori in onde medie per adesso abbiamo la Radio Vaticana che però naturalmente appunto non è italiana e poi in italiano possiamo ricevere Capodistria che è la radio ovviamente della comunità italiana eh dell'Istria perché in realtà eh le radio italiane in onde medie sono queste anche se anche se sottolineo negli ultimi anni sono nati grazie a dei circuiti appassionati di onde medie tutta una serie di emittenti locali e localissime che ancora trasmettono in onde medie che stanno tentando questo esperimento c'è anche un bellissimo sito che vi segnalo che si chiama ondemediaitalia.it mi pare dove potrete trovare questi gruppi di amatori che stanno utilizzando tra l'altro stanno anche sperimentando la stereofonia in onde medie che è una cosa un po' particolare quindi in realtà se noi vogliamo fare degli ascolti interessanti oggi sicuramente le onde medie quando di sera si apre la propagazione delle onde radio qui poi dovremmo tutti aprire un altro discorso cioè quando si iniziano a sentire le radio più lontane poi vedremo perché avviene si riescono a sentire tante cose anche se si sentono meno cose rispetto a cinque sei sette anni fa per esempio io che sono francofono ero solito ascoltare in onde medie france info dal trasmettitore eh di Lione sui 1278 kilohertz eh o di Marsiglia adesso non ricordo comunque si riceveva la sera sui 1278 kilohertz e l'hanno chiusa l'hanno chiusa nel 2016 mi pare da allora non si sente più quindi in realtà quello che uno sente la sera in onde medie sono tutte le emittenti dell'est europeo emittenti del maghreb la spagna e poi la nostra rai naturalmente che quella si può ancora ascoltare invece sulle onde corte che sono frequenze un po' più alte rispetto alle onde medie poi ci sarebbero le onde lunghe che sono ancora più basse delle onde medie vi spiego anche vi spiego tutta la divisione delle frequenze sapete sulle onde corte invece grazie al fatto che si tratta di una gamma in cui si può eh eh surfare avrebbe da dire come come emittenti radio sulla propagazione delle onde radio a questo punto poi chiedimi cosa cosa sia perché almeno mi spiego comunque grazie al fatto che le onde medie adesso le onde corte adesso la metto semplice riescono a seconda delle fasce orarie a viaggiare molto lontano le onde corte hanno una vita enorme sono popolatissime di emittenti di tutto il mondo e qui l'Italia per esempio secondo me facendo una scelta sbagliatissima di fatto è totalmente assente dalle onde corte ormai da anni le onde corte per capirci vanno eh dai 1600 kilohertz cioè 1,6 megahertz sino ai 30 megahertz e naturalmente le emissioni delle radio eh diciamo non privati delle radio eh broadcasting insomma quindi non dei radio a la Ora ti sento Sì 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 Hai messo pausa spero Non so dove ero rimasto Le emissioni delle onde Delle onde corte Ecco eravamo già arrivati a quando spiegavo Il fatto che arrivano dagli 1,6 ai 30 MHz Sì 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 subito dopo Ok Mandami il via e riparto Via Le grandi radio broadcasting Cioè le emittenti sia private che pubbliche Che fanno programmi e quindi non parlo dei radio amatori Si possono ricevere grossomodo Quindi dagli 1,6 MHz o 1600 KHz Sino ai 25 MHz E qualcosa Naturalmente all'interno di quelle frequenze Ci sono anche i radio amatori Ma tutte le radio si possono ascoltare lì Tra i 25 e i 30 MHz invece Si ascoltano altre cose Che sono le cosiddette CB Per esempio la banda cittadina Cioè gli amatori che parlano tra loro Insomma è tutto un altro discorso Però come dicevo Le onde corte Permettono davvero di avere uno sguardo sul mondo Che tra l'altro Ed è la cosa che mi affascina di più Non è affatto uno sguardo retro Perché le onde corte sono diffusissime Rendiamoci conto di una cosa Siamo in un pianeta In cui in realtà Internet non è così diffuso Capillarmente come pensiamo Esistono intere zone Dove purtroppo Internet quasi non c'è Penso all'Africa interna per esempio Penso a certi territori dell'America latina o dell'Asia E lì le onde corte funzionano alla grande Bene Invece le onde lunghe? Le onde lunghe sono ancora un'altra cosa Innanzitutto le onde lunghe sono quelle onde A cui dobbiamo la nascita della radio Perché sono quelle utilizzate da più tempo Le onde lunghe Vanno dagli 0 kHz sostanzialmente Sino ai 500 kHz E esistono ancora delle Emittenti europee che usano le onde lunghe La BBC per esempio Non ha mai spento le onde lunghe Si può ascoltare anche la RTL francese Sempre sulle onde lunghe Purtroppo Monte Carlo La radio Monte Carlo Ha chiuso l'anno scorso La radio ungherese si sente Si riceve benissimo per esempio Dalla Liguria La radio algerina Che fa uno splendido programma di rock la notte Ascoltatissimo anche in Francia E la radio marocchina Quindi io che sono appassionato di francofonia Ancora me ne servo Sono Una gamma Ripeto Quasi dimenticata In realtà poche radio Hanno le onde lunghe Anche quelle Le radio cinesi Che adesso abbiamo tutte Che invece hanno le onde corte Poi vedremo perché Non hanno le onde lunghe Esistono per esempio Però ricevitori Che possono ancora ascoltarle Io per esempio Ho la fortuna di avere un'automobile nuova Del 2016 Che però essendo francese Ha le onde lunghe Per cui io mi ascolto bellamente Le onde lunghe Anche dalla macchina È una Clio Una Renault Clio Non sto parlando di macchine strane Però ha le onde lunghe Però se è comprata in Francia Sì Se è comprata in Italia No In realtà è comprata in Italia Però ho avuto la fortuna Di avere le onde lunghe Invece che il DAB E quindi mi godo tantissimo Questa cosa Io mi sento questi programmi In onde lunghe Una cosa importante Le onde lunghe Hanno un bel vantaggio Hanno una bella stabilità Di ricezione E se tu trasmetti Con una certa apparenza In onde lunghe Grosso modo Sei ricevibile Su un raggio Di circa 2000 km Per cui tutto quello Che è 2000 km Ritorno a noi È ricevibile In Italia Quasi Un po' di più Senti Le onde corte Sono spesso servite Nelle guerre E nelle rivoluzioni Per esempio A mia memoria Io ero a Grosseto In quel momento lì Sentivo le onde corte Nel periodo 89-90 E mi ascoltavo La radio degli esuli rumeni Sia della Romania Sia in Francia E ora E ora mi sembra Che in qualche modo Abbiamo la stessa Funzione In Ucraina O Ucraina Come ti pare Ci racconti qualcosa Sì Parto Naturalmente Dalla tragedia Devastante Che ci sta Che stiamo attraversando In questi giorni E ne approfitto Per esprimere Tutta la solidarietà Al popolo ucraino Per l'invasione Nazista Del regime Sanguinario Di Putin Detto questo Mi sono messo all'ascolto Soprattutto i primi giorni Di questo disastro Memoria di un fatto Hai citato La fine degli anni 80 E l'inizio degli anni 90 Aggiungo un altro dato importante Durante gli anni Della guerra in Jugoslavia Quindi siamo nei primi anni 90 Quando Sarajevo Era totalmente Assediata E lì all'epoca Non c'era neanche L'energia elettrica E erano saltati i ponti radio I radio amatori Erano le uniche voci Che riuscivano a trasmettere Quello che stava accadendo E Radio Popolare All'epoca Parlo del 92 93 Si servì proprio del supporto Di un radio amatore Tra l'altro toscano Mi pare Per avere informazioni Direttamente Da Sarajevo Oggi sta accadendo La stessa cosa Se uno va A sintonizzarsi Intorno ai 14 megahertz In onde corte Il modo di emissione È l'USB Una delle due bande laterali Ci sono l'USB E l'LSB Che sono bande utilizzate Da radio amatori Può ascoltare I radio amatori Ucraini Che si scambiano notizie E può ascoltare Anche tutta una serie Di cose drammaticamente Interessanti Che ho sentito Per esempio Loro per disturbare Le trasmissioni Dell'esercito russo Mandano musica a Ucraina Mandano l'inno dell'Ucraina Creano dei rumori apposta Che vengono utilizzati Per disturbare Le frequenze Che possono essere usate Dall'esercito E tutto questo Si può ascoltare Ed è drammatico Per esempio Si sente che fanno l'appello Per vedere se ci sono tutti Poi qualcosa Sono riuscito a capire Ovviamente A un certo punto Loro si collegano Appello Un po' come si fa a scuola Per sapere chi c'è Chi non c'è Ed è drammatico Perché ti senti La guerra in casa E senti anche i rumori In casa Che arrivano letteralmente Da lì E quindi si Hanno un ruolo Hanno un ruolo Anche perché Nel momento in cui Ti saltano tutti i ponti radio E ti salta anche l'elettricità Con una banale batteria Di automobile Senza bisogno di ponti radio Con le onde corte Tu viaggi per Migliaia di chilometri E quindi In realtà Sarebbe un errore Spegnere tutte Queste radio Perché queste radio Comunque in qualsiasi situazione Garantiscono Una stabilità di comunicazione Il che è fondamentale Hai parlato di radio amatori Chi sono Nel 2022 Radio amatori E dove me lo compro Un aggeggio Per ascoltarmi I discorsi Dei radio amatori Dunque I radio amatori Già come dice la parola Sono delle persone Che amano la radio In realtà Ci sono due Tre branchie Diciamo Di persone che si occupano Di radio Ci sono quelli che hanno I cosiddetti CB Citizen Band La banda cittadina Sono persone che hanno Semplicemente una concessione Per parlare a livello locale Su un certo tipo di frequenza Poi ci sono I radioascoltatori Gli SWL Così chiamati Cioè quelli che hanno Il permesso per fare radioascolto E poi ci sono i radioamatori Veri e propri Che sono quelli che hanno Un patentino Che si ottiene Un po' come un esame di guida Insomma ci sono due livelli Del patentino Insomma con questo patentino Si può anche trasmettere Quindi sono questi Tre tipi di persone Oggi la figura Del radioamatore Che sembra Sorpassata In realtà non è così Perché i radioamatori Sperimentano mille cose Tra cui anche l'uso Digitale Della radio Oltre agli usi tradizionali Potremmo dire Che il radioamatore Tipo è una persona Che è curiosa sul mondo Che non si rassegna Posso autocitarmi Al medioevo digitale Non si rassegna Al medioevo digitale In cui L'infodemia Prodotta dalle reti sociali Ci fa credere Di essere a conoscenza Di tutto In realtà siamo In gran parte Manipolati Da tutte le varie Destre radicali Che utilizzano Ahimè Bene Le reti sociali A loro modo Quindi il radioamatore È qualcuno Che in realtà Usa mezzi Un po' diversi Per cercare Di ascoltare Poi Fellini Diceva sempre Io non voglio dimostrare Voglio mostrare E forse il radioamatore È un po' questa funzione Secondo me Posso permettermi Di dirti una cosa In questo momento Tu e Tu soprattutto Ed io Stiamo facendo In qualche modo Informazione vintage Se ti va bene Come definizione Comunque contro informazione Come Basta C'è Julio Anguita Storico Leader della Sinistra spagnola Ad un dibattito Quando lo riproveravano Per il fatto Per il suo marxismo Che per me sarebbe Un complimento Gli dicevano Che è antico E lui diceva No io non soy antico Io soy classico È una cosa diversa I classici Non tramontano mai Quindi La radio È un classico Non è antico È sempre classico È classico Senti Che funzione sociale Hanno A parte essere curiosi Sul mondo Con lo sguardo Aperto sul mondo I radioamatori Beh i radioamatori Sono persone Che comunque Si mobilitano Per esempio Nella protezione civile In casi drammatici Siamo giusto A dieci anni Dal dramma Del terremoto In Abruzzo In quel caso I radioamatori L'hanno usuto un ruolo Quando saltano Le comunicazioni Come dicevo L'unico modo Per evitare I blocchi Dei ripetitori Eccetera È quello di andare Su quelle onde lì E quindi I radioamatori Hanno comunque Una funzione Fondamentale E secondo me Come dire Sarebbe anche fondamentale Che le persone Conoscessero Queste possibilità Perché comunque Sono uno strumento In più In casi Speriamo non avvengano mai Di crisi Ma sono anche Uno strumento di aiuto Dunque Per cui Benissimo che ci siano E secondo me Non tramonteranno mai È per questo Che ti ho chiesto Qual aggeggio Compro Per ascoltarvi Ah giusto Dipende cosa vuoi ascoltare Naturalmente Si va Dalle radio A onde corte E qui arriviamo Qui a quella questione Che ti avevo accennato Sulla diplomazia Delle onde corte Si va Si va dalle semplici Radioline Che ricevono Le onde corte Che si trovano Anche nei mercatini Cinesi Con 10 euro Te la compri Ovviamente Quelle ricevono In onde corte Solo la modulazione Di ampiezza Se tu vuoi andare In onde corte Per sentire Le bande laterali Cioè quelle utilizzate Per esempio Dai radioamatori Devi avere un apparecchio Che Il cui prezzo sale Un po' Diciamo che Per esempio Esistono I così Parto da quelli Con un prezzo Più abbordabile Con un centinaio Di euro Ti compri Per esempio Un Texun Che è un po' È un incrocio Tra un ricevitore E una radio Che è quella basica In cui tu riesci Anche a ascoltare Le bande laterali Per esempio Quindi diciamo Che per ascoltare Le radio Con una decina di euro Te la cavi Ovviamente Devi saper poi Mettere bene Al punto giusto L'antenna Perché sono ricezioni Particolari Però te la cavi Se puoi Vuoi spendere qualcosa di più Comunque Voglio dire Con un centinaio di euro Tu puoi ascoltare tutto Massimo Senti Appunto Hai citato La diplomazia Don De Corte No? Sì Ho citato La diplomazia Don De Corte Che è una cosa Che mi ha incuriosito È un termine Che in realtà Mi sono un po' inventato Per cercare di definire Questo fenomeno Che mi ha colpito Parto da un assunto Al quale spesso Noi tutte Tutti Non facciamo neanche caso Gaber diceva Gli uomini Capiscono tutto Tranne le cose Particolari Semplici In un bellissimo Monologo Dedicato a Giotto Le radio Che abbiamo in casa Quelle più recenti Non parlo di quelle 10-15 anni fa Che sono quasi tutte Comprate dai mercatini cinesi Che si trovano ovunque Hanno Tre gamme Non so se C'è fatto caso SV Shortwave On De Corte AM Che in realtà Sarebbero le onde medie Perché AM In realtà Come vi ho detto Non è Il tipo di frequenza Ma il modo di trasmissione E poi FM Che sarebbero Anche quello Un modo di trasmissione Però un'altra frequenza Insomma Tutti hanno tre modalità Per cui tu puoi scegliere Col tastino In tre parti Non due E se una persona È curiosa Dice ma cosa servono Queste SV Shortwave On De Corte Inizia a girare la manopola E sente dei rumoracci Non è facile sintonizzarsi subito Perché comunque La gamma di frequenza È stretta Per cui devi andare proprio piano Con la manopola Per beccare la radio E a un certo punto lì Ti rendi conto Che cosa ricevi Innanzitutto Italiano quasi niente Poi vedremo il quasi Perché ve lo spiego Da curiosissimo Ma in gran parte Anche nelle zone più schermate Cioè in quelle in cui Tu non senti niente Però senti fortissime Le radio cinesi Radio che trasmettono in cinese Ma non solo Radio che trasmettono In spagnolo In rumeno E in francese Oltre che in inglese Cioè delle lingue Che non hanno nulla a che fare Con il cinese Allora mi sono detto Ma perché Ci sono queste trasmissioni E sono andato ad ascoltarmelo La fortuna Di essere francofono E mi sono reso conto Che tutti i programmi Per esempio In francese Delle radio cinesi Sono programmi indirizzati All'Africa francofona Quindi a tutto l'ovest dell'Africa E la radio cinese di Stato Radio China International Si serve di trasmissioni In francese Di fatto per esercitare Quella che io ho voluto Chiamare la diplomazia Delle onde corte Cioè loro Esercitano il cosiddetto Soft power Fanno egemonia Culturale Politica ed economica Diciamo Intorno alla Cina Che come sappiamo Ha dei fortissimi interessi In Africa Facendo programmi In francese Indirizzati addirittura Anche ai giovani Ci sono dei programmi Proprio dedicati alla giovinezza Fanno programmi In cui si descrivono Le possibilità di andare Per i giovani africani A studiare in Cina Per esempio Se ne intervistano alcuni Si hanno programmi Invece anche di Molto interessanti Di corsi di lingua cinese Programmi invece In cui si parla Di cultura Di storia Insomma Loro fanno quello Che l'Occidente Si è dimenticato di fare L'Occidente imperialista Tracotante Si è dimenticato Che l'egemonia culturale L'uso Termine egemonia Non in senso imperialistico Ma in senso gramsciano Cioè Il fatto di diffondere Le idee È qualcosa che non si fa più Loro lo fanno E addirittura E qui arriva una cosa curiosa Probabilmente Loro sono convinti Che in Italia Le onde corte Siano molto ascoltate Perché ho scoperto Che esiste anche Un programma in italiano In cui erano intervistati Per esempio Alcuni imprenditori Del nord est Del padovano Credo O di Venezia Che hanno interessi In Cina E raccontavano Di queste partnership Commerciali Ed erano tutti I programmi in italiano Ivi compreso Un corso di cinese Ora Ho fatto due più due Perché tutte le radio cinesi Hanno le onde corte Perché la Cina Vuole attraverso Le onde corte Che viaggiano A lunghissima distanza Con pochissimo sforzo Economico E tecnologico Raggiungere Una platea Il più ampia possibile E probabilmente In questo senso C'è un investimento culturale Anche se noi Non ce ne rendiamo conto Persino sull'Italia E noi Non ce ne rendiamo Assolutamente conto E ci sta sfuggendo Un fenomeno geopolitico Io credo Di grande portata Che dimostra Come stiamo andando Verso un mondo Multipolare E purtroppo E purtroppo non sempre Multipolare Vuol dire più democratico Quando comunque Le potenze Che si servono Di questi mezzi Non sono potenze democratiche Ammesso che una potenza Possono essere democratica Ma questo È un bello simuro Potenza democratica Eh appunto Appunto Allo massimo le potenze Quelle in matematica Possono essere democratiche Il quadrato E il cubo E lo so che tu sei Un classico Condivido Io sono un disgrafico Con i numeri Quindi figurati Senti Hai citato i Texon Per quanto riguarda I ricevitori Quali sono le migliori Marche di radio Beh qui ovviamente Potrei fare pubblicità Ma insomma Lo facciamo un po' Come quando si parla Di telefoni Beh sì Le grandi marche I grandi ricevitori Direi la Canwood Ecom E Jesu Le grandi marche La triade Diciamo Delle grandi marche Poi ce ne sono Tantissime altre Naturalmente Poi adesso Davvero Ad esempio Ho dimenticato di citare Anche il fatto Che esistono anche I ricevitori digitali Cioè sono delle piccole Chiavette Che tu inserisci Nella tablet O nel calcolatore E te lo trasforma Dotate di antenna Che ti permette Di ricevere Tutta questa roba qui Anche con 30-40 euro A mio parere Non funzionano benissimo Però c'è anche Quella possibilità E addirittura Per chi fosse curioso Poi se me ricordamelo Ti mando anche il link Lo possiamo poi diffondere Esistono dei ricevitori Aonde corte online Che sono Manovrabili da casa E che sono offerti Da radiomatori O Quello che uso spesso Io invece È un ricevitore Che è localizzato In Olanda Curato dall'università Di Twente In Olanda E ti permette Attraverso L'accesso libero E gratuito Alla pagina del sito Di trasformare La tabletta O il calcolatore O il telefono In un ricevitore E di scegliere Le frequenze E ascoltare Quello che vuoi Senti Hai dei progetti Per il futuro Da un punto di vista Radiofonico Ah beh Innanzitutto Personalmente Sono un po' Un accumulatore Seriale di radio Quindi continuo A comprare radio Di ogni tipo Anche quelle Da poco Però mi piacciono Proprio anche come oggetto C'è anche un po' Il culto dell'oggetto Radio in sé Come tutti i collezionisti Insomma C'è un po' Questa mania L'idea è quella Di continuare Ad ascoltare Quello che mi sta incuriosendo Maggiormente Per l'appunto È In quanto amante Anche della francofonia È esplorare Il continente africano Con la radio E davvero lì Si scoprono Mille cose Come stavo dicendo Appunto La questione per esempio Della Cina Ma non solo Il ruolo delle radio comunitarie Nei territori Addirittura E anche questa Un'altra cosa curiosa Ci sono zone Dove purtroppo Non c'è neanche L'energia elettrica E le radio Si servono O del dinamo Ci sono radio a manovella Oppure del pannello solare Ci sono C'è una marca di radio Che troviamo anche Nei mercatini A questo punto La cito Perché non è pubblicità Ma è un riferimento Sono le radio Waxiba Che secondo me Sono anche molto valide Dal punto di vista dell'ascolto Con una decina di euro Ti puoi comprare una radio Che funziona anche Col pannello solare Si trovano Voglio dire Anche se vai Nei negozietti Di Sottoripo O di Via Balbi Insomma Le trovi Per capirci Ho capito Ho capito Bene Zone del centro storico genovese Per chi non fosse di Genova E si chiede dove siano Questi luoghi Esattamente Ti lancio una sfida Incontriamoci un giorno E tiriamo su una radio Vabbè Apri una porta aperta Perché è uno Dei mie Dei mie sogni Del mio passione Poi sono anche Un abbonato A Radio Popolare Sono un appassionato Un amante Della storia Delle grandi radio libere Ho conosciuto anche Durante i giorni Tragici e terribili Del G8 Un'esperienza splendida Che è stata quella Di Radio Gap All'interno Della sede Del Genoa Social Forum E insomma Diciamo che E quindi Apri una porta aperta Apertissima Bene Noi ringraziamo Ennio Cennigliaro E io ringrazio voi È stato Gentilissimo Io ringrazio Tutte e tutti Siamo appuntamento Alla prossima occasione Ciao a tutti E tutti Ciao ciao Buonasera Buongiorno Avete Ascoltato Un podcast Di Allora Di Amadeus Alla prossima Occasione